Ancora una volta dei sacerdoti cattolici, ancora una volta nell'America meridionale, dove la violenza dilagante non risparmia i religiosi. Anzi, soltanto quest'anno sono stati uccisi 9 sacerdoti e 4 catechisti. In Messico i preti uccisi sono 15 negli ultimi 4 anni. Non sembra andare meglio in Brasile, purtroppo, dove sono stati rinvenuti i corpi di Gioao Paolo Nelli e Francisco Carlos Barbosa Tenorio. Avevano all'incirca la stessa età, 35-37 anni, ma vivevano a 1700 chilometri di distanza, a Rondonopolis, nel Mato Grosso, e a Nova Iguasù, periferia povera di Rio de Janeiro. In comune, invece, avevano il fatto di essere preti impegnati nel sociale. Padre Gioao Paolo assisteva ai tossicodipendenti. Il suo corpo è stato trovato in un campo con segni di strangolamento. Questa, la sua auto, abbandonata. La Salma, trasportata dai vigili del fuoco. Arrestati tre adolescenti, il motivo sarebbe il tentativo di furto dell'auto finito in tragedia. Una motivazione che potrebbe essere simile a quella che ha portato alla morte di padre Francisco Carlos. Sul corpo, ferite da taglio, il vescovo Monsignor Bergamin lo ha definito l'ennesimo segnale violento dei gruppi di narcotrafficanti che si contendono il controllo del territorio.